Sono qui a rappresentare anche Open Motors, una start-up californiana che si è prefissata come concept di realizzare un'auto facile da realizzare e soprattutto facile da modificare e implementare per aziende che non sono abituate al mondo automotive e che non hanno risorse limitate per poter portare un progetto da zero. Quindi in questo caso il nostro concept è mirato a fare in modo che sia un foglio bianco su cui le nuove aziende possano provare e sperimentare come un laboratorio delle forme e un restyling e un upgrade continuo sia di volumi di utilizzo e anche lo stesso estetico. E' sempre una parte molto importante anche nel settore dell'innovazione tecnologica. Direi che questo è un progetto molto interessante perché può aprire i mercati anche ad aziende che appunto non sono abituate al mondo automotive, penso a IBM, Uber o tanti altri protagonisti del mondo software o dei servizi che oggi si stanno affacciando sempre più in maniera importante in questo ambito. E' un interesse che va in tutto il mondo, quindi parte dalla California, passa per l'Italia ed è sicuramente a uno sguardo verso l'Oriente. Vi ringrazio per il premio e per la menzione.